Marco Caberlotto viene da Venezia, 27 anni, fa il produttore cinematografico, piccolo produttore cinematografico, ma combattente anche lui e ti occuperà in particolare di informazione, sei un comunicatore, giusto? Sì, buonasera a tutti, è un piacere per una volta dopo tanti anni stare dal palco. Mi occupo di comunicazione anch'io, per cui direi che ci sta a parlare di questa, che rischia di essere il problema per il quale cedono tutte le democrazie liberali. Sta emergendo in questi giorni anche in Brasile l'utilizzo di fake news per favorire un candidato alla presidenza, Bolsonaro, e credo che in Italia siamo particolarmente in difficoltà, perché quando il presidente di un'istituzione come Rai è stato pesantemente messo di fronte all'evidenza di aver postato più volte notizie false, stiamo parlando di un discredito su tutta l'azienda, su tutto lo Stato e su tutta la compagine dei giornalisti italiani. E vorrei dire, dare la nostra vicinanza credo a tutti i piccoli giornali locali che rischiano, si parlava prima, parlavi prima dei giornali che qualcuno si augura che possano chiudere, in realtà sono le piccole testate che senza il contributo pubblico rischiano di chiudere. Grazie Marco, occupiamoci di informazione importantissimo.